Voglio raccontarvi, prima che lo facciano anche gli altri, una delle mie tante esperienze con il grande Mariano. Ero bambino per i corridoi di Montecucco, tra l'altro saluto tutte le suore che rendono quel posto meravigliosamente leggero, spirituale e accogliente per tutti, e dove anche personalmente tengo dei ritiri di meditazione, ma anche diversi di noi della MPA, e spesso la cara suor Caterina e anche la cara suor Ignazia, che io giocosamente chiamo Santa Caterina e Santa Ignazia, mi facevano entrare ai pranzi dove Mariano, dove Ballester, rispondeva alle domande durante il pranzo poste da diverse persone. Già che ero un ragazzino, mi ricordo che mi mettevano uno sgabellino lì, e non sapevo neanche bene perché, io in realtà amavo Mariano, e mi facevano fare tutto questo, che poi mi sono reso conto che è stata anche una piccola formazione, possiamo dire, una formazione non formazione, e quindi assistevo spesso a domande e risposte, e soprattutto potevo attingere a questo meraviglioso campo di energia che circondava il caro Mariano. E vi voglio raccontare di questa volta comica e drammatica, insieme, come spesso accade, nella quale una signora, una donna, grande di età, beh io ero un ragazzino e quindi mi sembravano tutti molto grandi, anche vecchi, mi sarei sembrato anche come sono ora, vecchio all'epoca, e comunque una signora grande di età che, mentre era a tavola, iniziò a piangere, ma non una lacrima che le scendeva sul viso appena, iniziò a piangere con i singhiozzi, disperata, ricordo che appoggiò anche la testa un attimo sul tavolo, col braccio, così, singhiozzando, e io, giovane e anche inesperto, e anche alle prime armi con il contatto col corpo di dolore che tanta gente ha dentro, umanamente, rimasi perplesso in quella situazione. Mariano no, Mariano non era mai perplesso, era sempre completamente a proprio agio, e ricordo che rimasi stupito dalla frase di Mariano, che poi so che anche altri hanno vissuto una cosa simile, che si rivolse a me e mi disse, passami il pollo. Questa frase mi colpì innanzitutto perché all'epoca ero rigidissimamente vegano e anche per ovvi motivi, mi colpì quindi per il pollo, ma soprattutto all'inizio lo sentì come una mancanza di sensibilità di Mariano verso questa donna che stava soffrendo moltissimo. Intuì invece che Mariano la stava aiutando con un cuore empatico e la stava conducendo a non prendere troppo sul serio la drammaticità, le dinamiche del corpo di dolore. Questa donna dal punto di vista umano potremmo dire che aveva più che ragione per essere così anfranta, gli era morto il marito da poco, il figlio era fortemente dipendente dalla droga, un altro figlio se n'era andato via di casa e non sapeva neanche dove fosse, se negli Stati Uniti o in Canada, insomma una storia di quelle con un corpo di dolore denso direbbe Eckhart Tolle e mi colpì tantissimo, mi colpì tantissimo come Mariano alleggerì la situazione. Malester disse, Piggi mi passi il pollo? Al punto che io neanche mi accorsi che si rivolgeva a me, perché ero completamente caduto nel dramma della signora e stavo anche lì con gli occhi lucidi, esterrefatto, senza parole, lui no e io ero talmente esterrefatto che per ridirmelo mi toccò la spalla e mi dice passami il pollo, tanto io ero caduto un po' nella situazione drammatica. Questo toccarmi di Ballester che mi indicò il pollo e mi chiese di passarglielo, ricordo che io ero vegano all'epoca e quindi avevo anche una certa resistenza al pollo, mi fece trasalire e lì mi resi conto veramente dell'amorevolezza che c'è spesso nella leggerezza. Tanto più che poi questa donna non so come perché Mariano in realtà non le disse niente, non fece altro che lasciare che piangesse, ma quella stessa frase, passami il pollo Pier Giorgio, toccò la signora che iniziò misteriosamente a tornare seduta e a mangiare. Poco dopo entrò una suora, che non era sua Lignazio o sua Caterina, ma una suora più giovane, con un vassoio di pastarelle e mi ricordo che Ballester disse, uh come diceva lui con due s, meraviglioso, abbiamo oggi anche le pastarelle. E io guardai di sbiego un po' titubante, ma più sciolto rispetto a prima, la signora che pochi minuti prima, ma forse meno di minuti, era distrutta, gioiosa del fatto che fossero arrivate le pastarelle. Ecco lì compresi che a volte alleggerire l'anima non accade con grandi insegnamenti spiriti. Eppure questa donna improvvisamente era trasformata, era leggera, luminosa, era serena. Ora aveva degli occhi lucidi, sì, ma sireni e anzi addirittura ascoltò anche le domande che gli altri fecero e la vidi completamente trasformata. E non era accaduto niente. Ballester non aveva detto nulla, non aveva dato un insegnamento spirito e non, Pier Giorgio passami il pollo, o uh, come faceva lui, uh, meraviglioso, abbiamo delle pastarelle oggi. Vedete che cosa voglio dire? Che questo non era legato né al pollo né alle pastarelle, ma all'emanazione di luce, di leggerezza, a questo candore che il grande Ballester rispandeva intorno a sé. Lì fu per me una cosa fortissima che mi lavorò dentro per anni, non saprei dire per quanto, per quanti anni, ma per anni, e mi portò a quei click interiori che veramente ci parlano della spiritosità. Mi siete mai accorti che noi diciamo una persona è spiritosa quando fa molte battute, quando racconta barzellette? Eppure io parlo dell'etimologia proprio della parola spiritoso, in realtà vuol dire carico di spirito. Quindi una persona che vive lo spirito è una persona spiritosa, non è per forza un cabarettista, non è per forza uno dalla battuta pronta, e non è neanche per forza uno che fa ridere tutti gli altri, magari con una maschera del corpo di dolore, da simpatico. Io avevo assistito veramente alla dimensione della spiritosità che emana dallo spirito, e avevo visto l'effetto su questa signora. Ecco, quindi voglio iniziare questo incontro condividendo con voi quanto sia molto più importante la dimensione che trasmettiamo silenziosamente, più di mille insegnamenti spirituali, e come dice la luce del sentiero, a volte è meglio una luminosa risata che mille preghiere noiose e con le ragnatele. Se nessuno parla, dice Ballester, se non c'è nessuna indicazione, allora non resta che sedersi nella sponda del caos, del rumore, ben conosciuta, cantando la propria nostalgia come l'antico Israele, e qui cita un salmo, 137, 1, 2. Dice questo salmo, sui fiumi di Babilonia la sedevamo e piangevamo al ricordo di Sion. Ai cialici delle sponde appendemmo le nostre cetre. Cetre sono uno strumento musicale antico e sono anche il simbolo della gioia, del vivere con la musica, vivere con la gioia, con la leggerezza, del, come dicevo prima, passami il pollo, che a mio modo mi sono reso conto che era il suono della cetra di padre Mariano, ok? Non solo la leggerezza, ma alleggerire gli animi, alleggerire l'anima di chi gli era vicino, che è una qualità molto, molto più spirituale, cari amici, di quello che sembra. Non si tratta di essere un giullare, un buffone, neanche un simpaticone. Si tratta proprio di vedere che siamo noi che ci carichiamo di pesi e di pesantezze e di drammaticità e non è Dio che ci chiede questo, non è la vita che ci chiede questo e che i grandi maestri a iniziare dal grande maestro dei maestri erano in realtà gioiosi, erano leggeri, alleggerivano l'anima degli altri. Non posso non citare le parole di venite a me perché il mio gioco è leggero. Quando invece la spiritualità di duemila anni fa in Palestina caricava di responsabilità, di colpe, di peccati la gente e creava l'idea tutta illusoria di un Dio che ti voleva vedere soffrire. Abbiamo già parlato, abbiamo visto anche le assurdità legate alle dinamiche del corpo di dolore di illuderci che Dio più ci vede soffrire più ci ama e che più noi soffriamo più siamo amati. Questo condizionamento del corpo di dolore ci porta a vivere una vita sofferente inconsciamente perché crediamo che soffrendo ci attireremo l'amore di Dio. Quando questa assurdità inizia a scivolare via da noi la vita è gioia, la vita è festa e non si va ad un banchetto, al banchetto della sposa per tigionare e mettersi la cenere in testa. Grazie. 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 Grazie.